L'edizione 2018 del meeting di Rimini tratterà il tema della sofferenza dell'uomo contemporaneo e della chiave per raggiungere la felicità. Saranno presenti per la prima volta degli spazi tematici che ospiteranno dibattiti su argomenti come lavoro, welfare, scienza e scuola. Qual è l'auspicio, che tipo di riscontro volete avere da questo meeting? Noi abbiamo sempre una grande scommessa. La grande scommessa è che possiamo fare noi esperienza e tutti quelli che vengono anche insieme a noi e noi con loro che l'unica possibilità per vivere è valorizzare la diversità, valorizzare l'altro per il fatto stesso che c'è perché nella diversità dell'altro non c'è solo un limite a quello che sono io, nella diversità dell'altro c'è qualcosa che io non conosco e che posso essere chiamato a conoscere e con il quale posso costruire insieme. Questo è ciò che abbiamo tutti da imparare, credo. Emilia Guarnieri in questa edizione del meeting si parlerà di felicità e anche di dolore, qual è la chiave di lettura che è? Il dolore è qualcosa che l'uomo ha bisogno di imparare a vivere e imparare a condividere. Non c'è una risposta al dolore, c'è una modalità per poterlo vivere. Indubbiamente c'è un tema di realizzazione personale, cioè di compimento di sé, che vuol dire trovare appagato quel desiderio che uno si trova nel cuore. Sconfiggere lo smarrimento che è una cifra di questo tempo, soprattutto per i giovani. Esatto, è infatti l'altro grande fattore di incontrare qualcuno che lo ami.